se quello che stai cercando è un microfono dai molteplici utilizzi dalla qualità eccellente e dal costo relativamente contenuto questo fai fine a 8 sicuramente è quello giusto è quello che fa per te sì perché con circa 50 euro con la giusta promozione lascerò il link qui in descrizione proprio per acquistarlo al miglior prezzo possibile sia dal sito di fai fine sia dal loro canale ufficiale su aliexpress ed è acquistabile anche su amazon sentiamo la prova audio prova 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 questa prova audio una registrazione di whatsapp è per far capire come lui sia veramente preciso ha appunto una struttura che permette di catturare il suono della parte dove c'è la griglia frontale quindi molto secco e molto preciso quando ho registrato questo whatsapp ero in un ufficio una stanza dove le persone intorno stavano parlando eppure la voce chiara è la mia nonostante io mi stessi spostando infatti mi stavo allontanando dal microfono infatti le varie parole prova sono dette no con un audio differente perché mi spostavo mi allontanavo dal microfono e mi riavvicinavo ma lui prendeva sempre la mia voce le altre voci erano veramente in sottofondo perché perché lui essendo un cardioide prende proprio la voce il rumore in entrata è fatto bene curato i led sono settabili abbiamo un tastino sul retro sfioramento che permettono di farli cambiare fa cambiare da luce mettere una stessa illuminazione cioè lo stesso colore rgb in continuazione oppure renderlo cangiante questi colori che appunto variano rgb in maniera automatica per accenderlo e spegnerlo è semplicissimo perché basterà sfiorare addirittura non importa neanche toccarlo ma proprio sfioramento basta avvicinarsi da mezzo centimetro col dito nella parte superiore e lui appunto c'è un led che ci dimostrerà quando è acceso e quando è spento rosso o verde la cura nei dettagli è incredibile si può regolare è stabile è bello è veramente un microfono fatto bene ed è un plug in cioè io non faccio altro che attaccare il cavo che trovo in dotazione che è un classico usb lo attacco al microfono lo attacco giù nella parte appunto usb del computer del pc lo posso attaccare in qualsiasi periferica è compatibile ad esempio con xbox ps5 questo è un grandissimo vantaggio perché soprattutto per chi gioca chi vuole creare una stanza rgb lui è perfetto perché la qualità audio è ottima l'estetica è eccellente e il costo tutto sommato è più che accettabile per un dispositivo del genere io sono rimasto sorpreso dalla qualità costruttiva e ringrazio anzitutto l'azienda fai fine per avermi inviato a questo sample in prova sono rimasto veramente soddisfatto dalla qualità generale di questo dispositivo a partire da tutto quello che troviamo all'interno della scatola anche il cavo il laccio per fermare il cavo è tutto veramente fatto bene non è il solito cinesino che possiamo comprare con 20 30 euro lui costa leggermente di più ma è veramente tutta un'altra storia la qualità audio eccellente perché lui ha un campionamento fino a 192 hertz quindi lui veramente ci rende chiari e schietti se dobbiamo usarlo per una video call se dobbiamo usarlo per un messaggio whatsapp o telegram come lo uso io appunto nel pc per i vari gaming è bellissimo e quindi può star bene in qualsiasi ufficio o qualsiasi stanza da gaming io mi sto componendo tutta la stanza da gaming l'ufficio da gaming con le cuffie rgb tastiere rgb voglio comprare il tappetino rgb fra poco porterò il video sul canale anche di quello e ho una luce una lampada cangiante che appunto è sempre rgb per creare un'atmosfera generale complessiva che sia bella io lascio il link in descrizione per acquistarlo al miglior prezzo e lascerò anche il mio canale telegram alle mie offerte appunto del canale telegram se il video ti è piaciuto iscriviti ciao al prossimo video